Allora, praticamente, se vi hai un molestatore che vi dà fastidio per qua, questo vi hai che te prende, pigliami come fossi molestatore, pa, come data sotto allo stomaco, pa, pa, molestatore, pa, 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 poi abbiamo un molestatore, l'abbiamo affittato, questo è vero, state attenti, aprite la gabbia al molestatore, no, è vero, l'abbiamo affittato, lo tengono dentro la gabbia, cercherà di aggredire, cercherà di aggredire la persona, adesso vedete al maschio che è un bel ragazzo, vedete le tecniche fondamentalmente funzionano, è molestato, come ti senti? Ah, hai molestato, ma non fai, che ti senti? Che cazzo! Che hai un tipato la tua psichica, hai scelto la psichica, hai scelto la psichica, hai scelto la vita da capo, come ti senti molestato, no molestatore, come ti sento? Ma è che, che tipo l'altra volta la scena, che te sei messo a fare? tutte belle, sono belle! Sei una colazione, vai! Mi posso aiutare? Conosce delle tecniche? Guarda, ti do una mano, guarda, ti faccio, ah, no, no, ah! Ehi, dai, attendiamoci piano, per favore! Ahah! 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 Grazie a tutti.